Ponte Alidosi a Cassa del Rio Ponte Alidosi a Cassa del Rio si erge sul fiume Santerno da più di 500 anni. Vero capolavoro di ingegneria civile, il ponte presenta una struttura a schiena d'asino con un'unica arcata di 42 metri e una freccia di 19 metri. Commissionato da Obis Alidosi nel 1499 a Mastro Andrea Gurglieri per 500 ducati d'oro, il ponte si bolleggia. La potenza e la solidità della famiglia. La costruzione durò diversi anni e giovò al movimento commerciale della vallata del Santerno, privilegiando Cassa del Rio come area di mercato dei prodotti della terra e degli animali. Al suo interno, 5 stanze, probabilmente realizzate per motivi strutturali, consentivano alle guardie la riscossione delle gabelle e lo stoccaggio delle merci. Numerosi restauri si sono succeduti nel corso del tempo, tra i più importanti quelli del 1715, del 1862 e del 2011. Proclamato Monumento Nazionale del 1897, i recenti interventi di recupero delle stanze e di tutta la struttura esterna hanno consentito di restituire al ponte la sua imponente e seducente bellezza. Grazie per la visione!